Vieni a sedere Roby. Vieni. Quella bella degustazione si fa oggi. È in plenaire. È in plenaire. Lungo le mura di Lucca, vediamo se sta bene. E che ci andiamo a bere? E ci andiamo a bere Tom? Le rondini 2020 di Potere Erika. Si va subito all'assaggio. Ma si, siamo stanchi e abbiamo sete. Roby. Buonissimo. Grazie alla Le rondini. È un trebbiano con piccolissimo saldo di malvasia. Fa una fermentazione spontanea in anfora con una macerazione abbastanza lunga sulle bucce e poi fa un affinamento di qualche mese in damigiana senza solforosa aggiunta 12 gradi di godimento. Perché questi sono 12 gradi di godimento. Veramente un ottimo vino. esatto. Roby. Bottiglie prodotte solamente 403 quindi proprio nell'annata 220 è proprio una chicca per pochi. che dire è un'ottima espressione di trebbiano toscano. La malvasia anche se in piccola parte però contribuisce a dare questa nota fruttata molto profumata al vino. È un vino che si fa bere proprio totale relax. È un vino strepitoso. solare come questa bellissima giornata. È completamente libero. Assolutamente sì. E aggiungo che è perfetto. Questo vino è perfetto per la primavera estate. Perché ora veramente è un vino da bere assecchiate. Noi ce lo siamo bevuti dopo una bella camminata. corroborante direi. È un ghetto. Un integratore di sali minerali. Esatto esatto. Fino a che è disponibile ragazzi bevetene perché è veramente strepitoso. Grande Marco. Ragazzi saluti. Saluti da Lucca. Ciao. Ciao.